Propone taglia gli stipendi dei parlamentari e dei conduttori TV, in particolare Fazio e Vespa. È una proposta che potrebbe andare anche sul tavolo del governo? Secondo me è finita l'epoca in cui in questo Paese si può guadagnare nella TV di Stato 3 milioni, 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Credo che sia arrivato il momento di dare una sforbiciata agli stipendi dei politici e anche agli stipendi di qualcuno che non è politico ma sta dentro un'azienda di Stato. Quindi questo è un obiettivo di questa legislatura. Voglio dirvi una cosa. Per l'estate, entro l'estate del 2019, quindi nei prossimi 5-6 mesi, noi abbiamo come obiettivi la riforma costituzionale che taglia 345 parlamentari e come obiettivo il taglio degli stipendi non solo dei parlamentari ma anche di tanti altri politici e funzionari pubblici. Chi non vuole arrivare all'estate saranno sicuramente quelli che hanno paura o di perdere la poltrona o di perdere lo stipendio. Tra quelli non ci siamo noi. Per me è una cosa assurda. Quindi oggi torno a Roma per la prima volta dopo la notizia perché sono stato in Abruzzo in questi giorni e mi informerò per cercare di capire che cosa è successo. Se non ci sono rischi per Sandro, questo non lo devo dire io, lo devono dire i tecnici, allora ok. Se invece è stata fatta una scelta imprudente allora Sandro merita di nuovo la scorta perché è uno di quei giornalisti di questa terra che si è battuto per la lotta alla criminalità organizzata alla Camorra.